I finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria hanno eseguito un provvedimento di sequestro per equivalente per oltre 400.000 euro nei confronti di un dipendente pubblico attualmente in quescienza, ritenuto responsabile di truffa aggravata ai danni dello Stato. Il provvedimento, eseguito da militari della Compagnia di Palme e della locale sezione di Polizia Giudiziaria della Guardia di Finanza, scaturisce da un'attività di indagine in seguito dell'accoglimento di una domanda di immobilità presentata dal dipendente che veniva trasferito dall'ente presso il quale prestava servizio ad un'altra struttura statale. Dall'attività investigativa svolta è emerso che il soggetto ometteva di comunicare agli organi preposti le informazioni dovute in ordine al trasferimento, traendo in tal modo in inganno l'interrogatore riuscendo ad ottenere legittimamente per ben 17 anni un doppio stipendio, beneficiando nel contempo di contribuzioni previdenziali inospettanti. Perciò questo quadro investigativo ha portato al provvedimento di sequestro, disposto dal Tribunale di Palme ed eseguito dalle fiamme gialle su delega della Procura della Repubblica, tre beni sottoposti a sequestro, un immobile e diversi rapporti finanziari.